A Monte Corali saranno tre le gare in programma nel prossimo campionato mondiale di motocross. Ad annunciarlo sono gli stessi gestori del circuito. Il crossodromo di Feenza è infatti stato scelto per sostituire la gara in Turchia annullata. I tre Gran Premio in programma a Monte Corali prenderanno così il nome di Gran Premio d'Italia, Gran Premio Città di Feenza e Gran Premio Emilia-Romagna. Le gare saranno in programma il 5-6-8-9 e il 12-13 settembre. In pista anche gli atleti del campionato europeo. Per la città e per il circuito si tratta di una visibilità mondiale. Per l'organizzazione sarà una lunga maratona resa possibile grazie anche al contributo della Regione Emilia-Romagna. Impensabile fino a pochi mesi fa lo scenario del prossimo settembre. Le gare saranno organizzate in collaborazione fra il motoclub Monte Corali e Formula Imola, la società che gestisce l'autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola dove tornerà la Formula 1 a inizio novembre. Anche per Monte Corali si tratta di un ritorno. Il mondiale di motocrossi infatti era stato trasferito proprio al circuito di Imola nelle ultime edizioni. L'ultima volta che si corse Monte Corali a trionfare fu Antonio Cairoli.